Grazie a tutti. Non è vero che sei un bravo attore? Sei meglio di Cerro? È tornato l'ingegnere Narvini. È tuo figlio che ti mette di malumore? No, no, no. È strano. A volte con lui mi sento a disagio. C'è qualcosa che non capisco in quel ragazzo. Stiamo bene insieme io e te, no? Perché non riesco a levarmi dalla testa certe frasi di quel diario. Delle frasi fredde, piene di minaccio. Ma sai bene che sono tutte stupidaggini.